Ciao ragazzi, io sono Falconer, oggi sono qua con un nuovo primo contatto particolarmente atteso soprattutto da me perché stiamo per provare Darwin Project nella sua closed alpha disponibile solamente in questo fine settimana, insomma, il fine settimana del 10 novembre è un gioco che hanno mostrato alle 3, molto promettente, un survival barra battle royale molto frenetico, molto adrenalinico per cui sono curiosissimo di vedere com'è questa closed alpha chiaramente avrà qualche problema, presumo ma ci darà sicuramente modo di comprendere cosa aspettarci dal gioco completo per cui vediamo di gettarci subito nel vivo prendendo un server magari europeo in maniera tale da non avere lo sclero vero ma vedo che non c'è per cui andiamo su uno americano sperando che sia sufficiente per... a parte che vedo un ping altissimo e... vabbè, proviamo a vedere che succede allora... mmm... vado allora, colleziona risorse quindi raccoglie risorse, legno, pelle per preparare trappole, strumenti e potenziamenti per sopravvivere contro altri prigionieri ok, non morire di freddo quindi bisogna costruire anche dei fuochi per scaldarci e... cerca di essere l'ultimo prigioniero rimasto in vita bene, succederà il panico più totale probabilmente bene, allora il messaggio è chiaro bene vado, vado ok la grafica mi piace quest'anno hanno confermato il look mostrato alle 3 e devo dire che su pc sembra tanta roba sembra veramente tanta roba nel senso che non... nonostante si tratta di una close alpha non ha rallentamenti, cose, glitch grafici tutto fatto incredibilmente bene miracolo desti tempi poi allora allora a tal proposito ti hai venuto Q per la tua craft wheel allora qua che posso fare? la trappola per orsi le frecce il fuoco faccio un fuoco allora per il fuoco dovrò usare per forza il pad allora io mi sto scaldando che è cosa buona e giusta ho le frecce sì però col fuoco mi sgamano subito no? devo sprecarmi là vedo un altro fuoco c'è qualcun altro o è sempre il mio di fuoco mi sa che è sempre il mio qua non posso sfasciare niente provo qualcosa di più piccolo troppo grande provo qualcosa di più piccolo allora là ci sono parti elettroniche da quel che dicono qua non posso fare niente io ho il terrore del primo incontro con qualcuno perché secondo me finirà in semi tragedia però tocca provare per cui proviamo se capiamo dove passare però posso scalare le cose con una certa abilità almeno quello allora intanto prendiamoci la legna io tanto qua non credo che farò tagli perché voglio veramente darvi un'idea di com'è il gioco e non fare i montaggi mirabolanti a 2000 all'ora anche perché insomma trattandosi di un alfa poi capiamo veramente qual è l'idea di base del gioco è grandissima la mappa per adesso comunque ah là c'è un segno delle corna allora o è uno con problemi relazionali o è un animale tocca capire come la intendono qui vediamo un po' niente hanno preso qualcosa vabbè come non detto la c'è una casa io mi posso lanciare da qua senza farmi male credo di no credo non sia quel tipo di gioco posso scendere la burina no penso di no no non mi faccio niente se volo no potevo lanciarmi anche nel nulla bene sto morendo di freddo bene ok ok mi scaldo siamo rimasti in otto vivi io caldo sono caldo posso anche piegarmi posso anche nascondermi non vedo una mazza manco io ma mi posso nascondere quello è ci sono passi di qualcuno indicati per motivi ignoti ho veramente il terrore di vedere che cosa accadrà allora io posso fare non ho pelle bandiera dell'alleanza trappola trappola per orsi ma la pelle dove la prendo grande fondamentale ah eccola dalle poltrone devo scuogliare una poltrona per prendere la pelle mi stanno cercando qualcuno mi ha sgamato penso di si mi stanno mi stanno per trovare aia che cazzo non è che mi ha trovato allora porca miseria ma vi spreso aiuto ma se io volessi tipo fuggire lontano 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 da tutto ciò che che è il mondo e nascondermi in questo in questo cespuglio no non lo posso fa vabbè quando vieni cercato niente non capisco su cosa si basa il tracking a sto gioco ma evidentemente lui lo sa ecco se lo ha fatto allora ho livellato ho preso 3400 quindi si basa sui fan torniamo al menu vediamo cos'è successo nel mentre più che altro quello che posso dire è che sembra sembra un gioco un po' più rapido rispetto ai classici player unknowns fortnite eccetera 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 e sembra un gioco in cui il ritmo d'ingresso ed uscita di combattimento è più alto e un gioco in cui la possibilità di interagire con gli altri giocatori è un po' più diretta e anche un po' meno immediata che cos'è ah era questo l'affare che faceva il tracking abbiamo scoperto una cosa in più qua si combattono vabbè io direi che posso potrei anche uscire e andare il fatto che qua urlano e si sclerano dietro noi possiamo andare a cercare un'altra partita adesso abbiamo capito qualcosina l'abbiamo capita per cui vale la pena fare quantomeno un'altra partita per vedere un attimino la situazione qual è andiamo europe qua è già pieno andiamo questo c'è un un ping bassissimo vado forse forse la volta buona che vabbè che anche sul server quello americano non ho avuto problemi di sorta non scattava minimamente nonostante un ping sopra i 100 che teoricamente qualche problema dovrebbe darlo no anzi ho preso ho preso addirittura il tizio con la con la freccia a distanza di un chilometro e mezzo per cui vabbè adesso aspettiamo e vediamo se pesco una partita rapidamente boing 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 stop shooting me boing 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 allora la la situazione sta già sfuggendo di mano credo da 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 quello che si sta intuendo è è abbastanza caldo l'ambiente allora adesso qualcosa l'abbiamo imparato per cui con molta calma tranquillità dovremo cercare di dare un senso a questa seconda partita sperando che non finisca in tragedia o quantomeno che si porti a casa la prima kill la vedo una poltrona pronta ad essere scuoiata e quella poltrona sarà mia il killer di poltrone allora com'era beato che se lo fa ecco hanno preso come come spunto the darwin project allora io andrei di tutto quello che si può prendere qua qua vedo un'altra poltrona ecco le parti elettroniche sono le uniche per cui scatta lo sclero di massa per cui tutti si odiano e si vogliono fare del male per cui io mi faccio gli affaracci miei per il resto direi che potrei potrei prendere l'alberello scorta di legno davo un senso a sta legna e che ci facciamo gli scarponi veloci bene e il fuoco no perché ho poca roba e per il resto penso non si possa fare nient'altro per cui mi prendo altra legna e vado a esplorare il mondo circostante sperando di rientrare quanto meno fra i primi 5 tra l'altro cosa fondamentale che mi verrebbe da dire appresso il fatto che il gioco abbia partite a quantità ridotta di partecipanti perché giocare in 10 ti garantisce partite più rapide un ingresso più immediato e una partita un po' più leggera dal punto di vista del coinvolgimento insomma non te devi stressare a morte come magari succede con roba tipo player unknowns per cui stai 3 ore a cercare di trovare un'arma decente dopo 3 ore che giochi ti sparano in un attimo ed è finita lì a me crea un grado di depressione mista a rabbia e e angoscia col gioco che mi ci tiene tendenzialmente molto lontano questo sembrerebbe essere un gioco più alla mia portata e più nelle mie corde cosa fondamentale c'è qualcosa che mi sta facendo il tracking penso sia il fucilazzo di prima quindi mi faccio gli affaracci miei poi devo dire che per il momento appresso il modo in cui hanno inserito la componente survival che non è troppo invasiva solamente il discorso del freddo che non si accolla poi così tanto mi ricorda un po' The Division il DLC fino alla fine lo ricorda un pochino nella gestione del freddo sebbene qua sia molto meno punitivo come sistema allora un po' di legno un po' di legno un po' di legno legno che ce posso fare con tutta sta legna niente le trappole che potrebbe valer la pena metterle se avessero la kill immediata non avendo la kill immediata tocca capire quando come perché metterle e non è proprio così semplice però due frecce in più magari le farei ok così ne abbiamo ma andiamo ma facciamo neanche dieci in tutto ecco qua mi sa che si inizia con il leggero panico siamo rimasti in otto ma una bella poltrona su cui abbandonare oh la poltrona tirate fuori la poltrona sarà il nuovo grido di questo gioco bene allora allora un'altra poltrona no ho trovato la roba elettronica no tre pezzi di legno tutto sto casino niente qualcosa mi ha visto no non voglio essere colpito via 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 fuga nei boschi ma non si può sfuggire sta a fare è l'occhio che tu è tipo l'occhio di sauron tutto vede tutto può aiuto non voglio essere colpito no ok non mi ha colpito wow poltrona poltrona che vi faccio il cappotto e aumento dei danni della mia ascia qualcosa sono diventato il il razziatore di for honor cos'è sta roba ahhh ecco in base a cosa fanno gli altri io posso individuarli e andargli appresso interessante sta dinamica la poltrona sul ponte è tipo guardatemi sono mister mi guardi guardatemi guardatemi per cui credo che sto morendo di freddo e qui c'è c'è un coso però ho visto no ma chi va ah 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 cheat cheat ah 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 il delirio il delirio più totale è fantastico a me io io devo confessare che mi ha che mi ha troppo spiazzato sentire l'urlare come un pazzo mi ha mi ha messo fuori fase non me l'aspettavo è tutta una tattica fantastico ah 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 santo c'è io io devo trovare devo ritrovare questa persona e devo dirgli grazie perché è un momento veramente fenomenale da registrare veramente meraviglioso bene ragazzi io direi che a questo punto dopo il momento follia ci possiamo fermare qua è stato è stato sinceramente meraviglioso come finale non avrei potuto chiedere di meglio e ringrazio ringrazio quel ragazzo che ci ha regalato quel momento di di epicness assoluta che sarà difficile eguagliare in altri video del del gioco a questo punto ragazzi niente io vi invito a farmi sapere cosa pensate di Darwin Project fatemi sapere che impressione vi ha fatto fatemi sapere se vorreste eventualmente rivederlo in occasione di qualche altra fase di beta testing e soprattutto fatemi sapere se avete intenzione di giocarlo anche voi quando sarà perché magari sarebbe carino farci pure qualcosa insieme detto ciò ragazzi niente io vi ringrazio vi invito a farmi sapere cosa ne pensate io semmai lascerò un sondaggio anche su questo pur essendo un primo contatto giusto per sentire un po' cosa ne pensate voi e niente noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti